Buonasera dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 per incidente 4 km di coda tra Prato Est e Prato Ovest in direzione Pisa. Rallentamenti sulla carreggiata opposta in direzione Firenze. Sulla A1 in direzione Roma 2 km di coda per un veicolo in avaria tra Barberino e Calenzano. Per lavori rallentamenti tra Aglio e Barberino. In direzione Bologna rallentamenti tra Calenzano e Barberino. Sulla FIPILI per lavori un chilometro di coda in entrambe le direzioni tra Empoli Est e Ginestra Fiorentina. È chiuso lo svincolo di Montelupo-Fiorentino in entrata in entrambe le direzioni e in uscita in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento A1 di Firenze in Pruneta. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!